ciao a tutti oggi come potete vedere dalle immagini andremo a realizzare insieme il cappello di babbo natale andiamo quindi subito a vedere cosa occorre e come si realizza per la realizzazione del nostro cappello di babbo natale per la parte rossa utilizzeremo il berry il berry è un filato straordinario che mi conosce sa che io uso molto per qualsiasi tipo di lavorazione ma per la realizzazione del cappello di babbo natale così come avete visto nel tutorial del cappellino piccolino di babbo natale da prendere all'albero il rosso di questo berry è proprio perfetto prima poi un rosso classico del vestito di babbo natale per la parte bianca così come nel cappellino piccolo io utilizzo la reta e utilizzo la reta questo qui slim che ha il pelino leggermente più lungo potete abbinarlo alla reta normale che questo qui questa è la reta normale che ha un pelino leggermente più piccolino più più sottile e quindi potete binarlo a questo altrimenti potrete utilizzare la reta short che è questo qui che anche questo qui ha un pelino un pochettino più fine quello che ha il pelino più raso di tutte di tutte diciamo la serie degli arita se poi il cappello è destinato a una donna se per un uomo no ma se destinato a una donna potete decidere di aggiungere quindi di binare al vostro arita questo filo che è il grace ed è il grace bianco con questi con queste screzzature brillanti vedete che sono molto luccicanti sono proprio sberluccicanti e potete appunto abbinandolo al alla reta per fare le parti in bianco del cappello dare un tocco di luce in più io lavorerò tutto il mio cappello con lucinetto numero 6 e mezzo perché voglio realizzare un cappello molto molto morbido un marca punti ci occorre un ago da lana e un paio di forbici poi abbiamo bisogno di una cosina nuova che trovate in vendita sul portale della tessiland che è questa questa qui la trovate in una confezione con quattro accessori di quattro misure differenti che sono gli accessori per fare i pompon questo attrezzino qui è comodissimo perché in un attimo farete dei pompon bellissimi è veramente molto molto veloce da utilizzare cioè il pompon è veramente un attimo farlo senza ritagliare cartoncini e poi questo è eterno come sapete vi metto i tutti i link ai materiali nel box informazioni del video andiamo subito a vedere come si realizza il cappello di babbo natale inizio con la realizzazione di un anello magico di 6 maglie basse quindi catenella una due tre quattro cinque sei maglie basse stringo e vado a realizzare un giro completo di sei maglie basse me l'avete chiesto nuovamente in tanti ve lo ripeto ogni tanto è bene che ve lo ripeta io la catenella iniziale non la utilizzo per chiudere il giro perché no perché io lavoro in maniera concentrica la salto perché così questo saltino mi permette di coprire di chiudere bene tutto il giro io salto e vado a lavorare direttamente nella prima maglia bassa così la mia prima di altre sei vedete la catenella copre lo spazzetto quindi vado a realizzare ancora due giri concentrici di sei maglie basse una volta che avremo terminato i due giri di sei maglie basse andiamo a lavorare il giro successivo nel quale andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie sottostanti due maglie basse in ognuna delle maglie sottostanti marchiamo la prima e procediamo con due maglie in ognuna delle sei maglie che abbiamo nella base di lavorazione al termine ci ritroveremo 12 maglie basse e andremo a lavorare due giri concentrici di 12 maglie basse nel giro successivo andremo a fare una maglia bassa e un aumento una maglia bassa e un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 18 maglie basse dopodiché andremo a fare due giri concentrici di 18 maglie basse procediamo con il giro successivo nel quale andremo a fare due maglie maglie basse e un aumento due maglie basse un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 24 maglie basse dopodiché facciamo due giri concentrici di 24 maglie basse proseguiamo con il prossimo giro nel quale andremo a fare tre maglie basse e un aumento una due tre maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 30 maglie basse dopodiché andremo a lavorare tre giri concentrici questa volta di 30 maglie basse nel giro successivo andremo a realizzare quattro maglie basse e un aumento quattro maglie basse un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 36 maglie basse dopodiché andremo a realizzare cinque giri concentrici di 36 maglie basse procediamo adesso con i sette giri successivi nel primo di questi sette giri andremo a fare cinque maglie basse e un aumento marchiamo 15 maglie basse è un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 42 maglie basse dopodiché lavoriamo sei giri concentrici di 42 maglie basse andiamo adesso a lavorare i prossimi 9 giri nel primo di questi nove giri andiamo a lavorare sei maglie basse e un aumento sei maglie basse è un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 48 maglie basse dopodiché andremo a realizzare otto giri concentrici di 48 maglie basse quindi per otto giri lavoriamo le maglie come si presentano proseguiamo con i prossimi 11 giri nel primo di questi 11 giri andiamo a lavorare sette maglie basse e un aumento sette maglie basse un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 54 maglie basse dopodiché andremo a fare dieci giri concentrici di 54 maglie basse e per dieci giri lavoreremo le maglie come si presentano procediamo adesso con la lavorazione di otto maglie basse è un aumento otto maglie basse un aumento che ripeteremo per tutto il giro che terminerà con 60 maglie basse dopodiché andiamo a lavorare dieci giri concentrici di 60 maglie basse nuovamente per dieci giri andiamo a lavorare le maglie come si presentano una volta che avremo terminato togliamo il marca punti ci agganciamo alla maglia successiva l'ultima che abbiamo lavorato facciamo una maglia bassissima e facciamo la stessa cosa nel punto successivo quindi un'altra maglia bassissima tiriamo tagliamo e fermiamo il filo il nostro cappello la parte del cappello principale terminata io ho lavorato ora noi abbiamo fatto questo cappello per una misura normale questo qui misura 54 cm di circonferenza se lo volete fare più grande ancora aumenterete ancora qui nel giro successivo andrete a realizzare nove maglie basse è un aumento che vi porteranno sul lavoro 66 maglie e poi lavorerete un giro solo di 66 maglie perché ora è già lungo abbastanza se lo volete invece fare più strettino quindi se lo volete fare per un bimbo vi fermerete andrete a lavorare sino a che la circonferenza sia ovviamente adeguata alla testolina per la quale è destinato il cappello però poi dovrete continuare nel senso se voi vi fermate a 48 maglie vi faccio un esempio 48 maglie però procederete a lavorare magari non fino a 61 righe come 61 giri come ho fatto io però una 58 anche per un bambino vanno bene perché questo è un cappello che deve scendere leggermente quindi ovviamente i miei sono spunti lo sapete proprio farete quello che meglio credete però questo è carino sei lungo non deve essere troppo corto come cappello di babbo natale questo è il classico cappellone grande di babbo natale adesso una volta che abbiamo fermato andiamo vi faccio vedere come fare sparire i fili di lavorazione e lo farete poi così per tutti gli altri fate entrare il filo nel lago poi girate dalla parte di sotto quindi entrate con lago all'interno della lavorazione della parte del rovescio del cappello come e poi entrate nella nei punti lavorati quindi entrate all'interno delle maglie lavorate così per un po di punti 3 o 4 non abbiate paura più punti utilizzate meno avete rischio che si possa disfare il vostro lavoro quindi a questo punto potete tagliare il filo per il mio bordo io utilizzo un un filo grace bianco due fili di arita slim e un filo di arita short quindi vado ad annodare il tutto così e poi inizia la lavorazione lo voglio fare bello bello ricco il cappello entro in uno qualsiasi dei punti tanto è un cono quindi non ho problemi e poi vado a lavorare vado a riprendere tutti i punti tutti intorno al cappello riprendo 60 maglie procedo con la lavorazione di 14 righe concentriche di 60 maglie basse quindi per 14 giri vado a lavorare le mie 60 maglie basse con il bianco una volta che avremo terminato i 14 giri di 60 maglie basse in bianco troviamo il marca punti e andiamo ad agganciarci alla prima maglia così facciamo una maglia bassissima e tiriamo un bel po di filo che ci permetta di cucire poi prendiamo l'ago da lana inseriamo il filo nel lago pieghiamo il bordo bianco in questo modo in modo che la parte finale del bordino vada a superare di una riga l'attaccatura che abbiamo fatto al capello quindi la lo stacco che c'è tra il rosso e il bianco andiamo in praticamente qui sopra e andiamo a cucire il cappello esattamente in questo punto quindi puntiamo il lago nel primo nella prima riga sopra l'attaccatura in questo punto così e fissiamo e cuciamo e ovviamente andiamo a cucire tutto intorno al nostro cappello una volta che avremo terminato il giro andremo ad agganciarci al punto accanto all'ultimo facciamo un altro punto e un punto l'asola quindi facciamo l'asolina ed entriamo dentro un lago e tiriamo e facciamo sparire il filo di lavorazione all'interno della della banda della fascia bianca così lo facciamo entrare per un po di lunghezza dopodiché tiriamo la fascia e tagliamo via adesso andiamo a fare il nostro pom pom prendiamo l'attrezzetto più grosso lo uniamo riprendiamo tutti i fili se volete prendere tutti i fili in un modo se volete lavorare solo con infilato insomma questo vedrete voi io userò liste lo stesso numero di fili che utilizzato nella realizzazione della fascia bianca quando li prendete sono chiusi aprite tutte e due così e riunite in questo modo schiena contro schiena per 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 capirci così in modo che le palline vada a combaciare con i buchini così vedete adesso tenete con una mano e andate ad avvolgere prima da una parte e poi dall'altra iniziamo con questa parte che ne tengo il tra le due ditte le ultime ditte della mano destra e comincio ad avvolgere i miei fili e ne avvolgo un bel po più filo mettete più viene ricco e gonfio il vostro pompon una volta che avrete riempito una delle due mezze lune procederete col passare il filo lateralmente all'altra così e procedete con inserire anche nell'altra mezza luna la quantità di filato che avete inserito nella precedente una volta che avremo riempito entrambe le parti andremo a tagliare il filato e poi ne prendiamo un pezzetto anche due così due fili è molto resistente la vita quindi potete chiudere il lavoro con questo adesso uniamo il cerchio quindi chiudiamo il cerchio in questo modo e lo agganciamo così adesso prendiamo le forbici entriamo nel buco vedete qui c'è una separazione e andiamo a tagliare perché poi vedete entrerete nella nell'apertura che rimane nella la fessura che rimane aperta un paio di forbici più piccolina ecco qui e tagliate praticamente tutto il filato che vi ritrovate una volta che avrete tagliato tutto il filato intorno prenderete il filo che avete tagliato successivamente e lo farete passare nella fessura in questo modo così e poi stringete e tre nodini così adesso andate a sganciare nuovamente i fermi laterali 1 e 1 2 e aprite e ve li trovate con il vostro pom pom terminato ora ovviamente questo è un filato che ha il pelino quindi farà un disastro ferroviario andate a spelare bene tutta la pallina non indossate nulla di bianco mi raccomando poi con le forbici andate a regolare tutte le parti che vedete non sono precisamente tondeggianti andiamo a regolare bene una volta che avremo regolato tutto il nostro pompon che sarà quindi una bella pallina tonda prendiamo l'ago e andiamo a fissare il pompon sulla sommità del cappello quindi entriamo così andiamo a fermare il nostro pompon tutto intorno una volta che avremo fissato bene il pompon facciamo un paio di punti asola per fermarlo ancora meglio chiediamo bene e poi possiamo tagliare a livello degli altri fili potrete poi voler decidere di realizzare il pompon con un bianco con filato bianco normale oppure sempre con questo filato ma realizzare una pallina invece che il pompon questa è la vostra scelta ed eccolo qui una volta indossato come appare il cappello di babbo natale vedete molto ampio molto grande molto lungo più che altro ed è bello morbidoso dall effetto proprio morbidoso con il filato arita con i quali abbiamo fatto appunto il pompon e la fascia che incornisce al volto ed è molto bello per questo rosso vivace del berry gli da proprio l'aspetto classico del nostro cappello di babbo natale bene a questo punto avete capito il nostro tutorial odierno è terminato io con questo spero di aver accontentato le tante amiche che dall'anno scorso già mi avevano chiesto la realizzazione di un cappello di un bel cappello da babbo natale per gli adulti e questo qui penso che sia molto carino è molto simile all'iconografia classica del cappello di babbo natale quindi bello peloso dove c'è il bianco e con un rosso bello vivace è un cappello grande perché di solito i capellini che anche vediamo in vendita sono piccolini non sono lunghi come questo questo è proprio diciamo molto similare al vero cappello vero tra virgolette di babbo natale bene a questo punto non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi come al solito per avermi seguito vi aspetto tutti sul gruppo di facebook gli amici dell'angolo di chris colgo l'occasione per augurarvi un buon natale vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial